Se sei un amante degli animali, prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nel remoto angolo della vasta regione russa di Tver, l'aeroporto di Orlovka sembrava un mondo isolato dal caos e dal trambusto della vita moderna. Immerso tra le verdi foreste e le distese di prati, l'aeroporto era il luogo in cui un gruppo di coraggiosi piloti lavorava instancabilmente per mantenere in funzione le operazioni di volo. Un giorno dell'estate del 2016, mentre gli uomini erano occupati in una delle loro normali attività, si verificò un evento straordinario che avrebbe cambiato per sempre la vita di molti di loro. Mentre passeggiavano vicino alla pista, notarono qualcosa di insolito, un piccolo cucciolo d'orso che si aggirava da solo, mostrando tutta la sua vulnerabilità. Inizialmente, il gruppo osservò la scena con cautela, sperando che la madre dell'orso sarebbe apparsa da un momento all'altro per prendersi cura del piccolo. Tuttavia, trascorse del tempo senza alcuna traccia della madre, e la triste realtà iniziò a farsi strada nella mente dei piloti. Il cucciolo era un orfano, abbandonato dal destino e forse vittima dei bracconieri che spesso si aggiravano nella zona. Commosso dalla situazione del cucciolo e consapevole che non avrebbe avuto speranze di sopravvivenza nella vasta foresta senza la madre, il gruppo di piloti decise di avvicinarsi con delicatezza all'animale selvatico. Avevano sentito parlare di programmi di salvataggio di orsi orfani, ma in questa remota regione russa, tali iniziative erano praticamente inesistenti. Quindi, con il cuore colmo di compassione, decisero di assumersi la responsabilità di prendersi cura di lui. Dopo molti sforzi e pazienza, i piloti riuscirono a guadagnarsi la fiducia del cucciolo e, con il passare dei giorni, si instaurò un legame indissolubile. Il cucciolo d'orso fu chiamato Mansur e iniziò a dimostrare una fiducia e un affetto straordinari verso i suoi salvatori. I giorni trascorrevano all'aeroporto di Orlovka, dove Mansur aveva trovato un rifugio sicuro e accogliente. Il parco dell'aeroporto divenne il mondo di Mansur, un vasto giardino delle meraviglie dove l'orso curioso esplorava ogni angolo, incuriosito da oggetti e attività umane. I piloti, con il cuore gonfio di affetto, gli fornirono giocattoli e amorevoli attenzioni, trascorrendo il tempo libero con lui e organizzando giochi e passeggiate avventurose. Ma ciò che rendeva ancora più speciale la storia di Mansur era l'incredibile legame che aveva instaurato con l'aschi di uno dei piloti. Il loro era un rapporto che andava oltre le barriere delle specie, dimostrando che l'amore e l'amicizia possono unire anche creature diverse. Tra tutti coloro che si occupavano di Mansur, c'era un uomo speciale, Andrei Ivanov. Era uno dei piloti che aveva partecipato al salvataggio dell'orso e, con il tempo, sviluppò un legame profondo con lui. Andrei si trasformò quasi in un padre adottivo per Mansur, portandolo a casa sua di tanto in tanto, facendogli sentire l'affetto e la protezione di una famiglia umana. Tuttavia, tutti sapevano che l'orso sarebbe cresciuto e diventato sempre più grande, e l'aeroporto non sarebbe stato un ambiente adatto per lui. La domanda di dove portare Mansur a questo punto divenne una preoccupazione centrale. Non c'erano zoo nelle vicinanze disposti ad accoglierlo, e il pericolo di restituirlo alla natura senza l'adeguato addestramento era troppo grande. Fortunatamente, una speranza si manifestò quando una persona, venuta a conoscenza della storia di Mansur, promis di portarlo in una riserva naturale, dove avrebbe potuto vivere felicemente e in armonia con la sua natura selvaggia. Con cuore pieno di speranza e fiducia, il gruppo di piloti decise di affidare l'orso all'organizzazione, pur essendo doloroso dover dirgli addio. Tuttavia, il destino si rivelò crudele. Gli uomini scoprirono presto che Mansur era stato ingannato e portato in una terribile stazione di addestramento per orsi, dove gli animali venivano sottoposti a trattamenti ingiusti e crudeli. La sua gioia e libertà gli furono strappate via, e Andrei e gli altri decisero allora che era arrivato il momento di agire. In un'audace operazione di salvataggio, i piloti decisero di liberare Mansur dalla sua prigione di ferro e riportarlo nel suo vero ambiente, tra gli amici umani che lo avevano amato e protetto sin dal primo giorno. Fu un'impresa rischiosa, ma la determinazione e l'amore per l'orso li guidarono. Grazie all'aiuto di esperti, costruirono un ambiente sicuro e protetto per Mansur, un grande recinto dove potesse vivere la sua vita senza paura. Ogni giorno, il legame tra Andrei e Mansur si rinforzava, la loro amicizia diventava ancora più profonda. L'orso aveva finalmente trovato la sua casa, e i piloti, con l'aiuto di donazioni da tutto il mondo, garantirono che avrebbe vissuto una vita felice e libera. Nel corso del tempo, Mansur si trasformò in un magnifico esempio di come l'amore e la dedizione dell'uomo possano fare la differenza nella vita di un animale selvatico. La sua gioia e gratitudine si manifestavano in mille modi, dal dolce cullarsi tra le braccia di Andrei alle sue scorribande giocose tra gli amici dell'aeroporto. L'amicizia tra uomo e animale non conosce confini, e Mansur era diventato l'emblema di questa verità. La sua storia si diffuse in tutto il mondo, ispirando le persone ad amare e proteggere la natura selvaggia, dimostrando che l'empatia e il rispetto per gli animali possono creare legami che durano per sempre. La meravigliosa avventura di Mansur e Andrei continua a illuminare il cuore di tutti gli amanti degli animali, poiché dimostra il potere dell'amore e dell'amicizia nel mondo animale. La loro storia è diventata un simbolo di speranza e di quanto l'affetto umano possa fare la differenza nella vita di una creatura selvaggia. La lezione più grande che possiamo trarre dalla storia di Mansur e degli eroici piloti di Orlovka è che ogni individuo ha il potere di fare la differenza nel mondo. Anche nelle situazioni più difficili, la compassione e la dedizione possono cambiare il corso degli eventi e creare un impatto positivo sulla vita degli altri. Questa storia ci ricorda anche di non sottovalutare la forza dell'amore tra uomo e animale. Gli animali selvatici possono provare empatia e affetto, e l'interazione umana può fare la differenza per il loro benessere e la loro sopravvivenza. Inoltre, la storia ci invita a riflettere sulla conservazione della natura e della fauna selvatica. Ogni creatura ha il diritto di vivere libera e in armonia con il proprio ambiente naturale, e noi come esseri umani abbiamo la responsabilità di proteggere il nostro pianeta e le sue meraviglie. Infine, la vicenda di Mansur ci ricorda di non arrenderci di fronte alle sfide e alle ingiustizie. Quando ci troviamo di fronte a situazioni difficili, dobbiamo trovare il coraggio di agire, di combattere per ciò in cui crediamo e di proteggere ciò che amiamo. La storia di Mansur e Andrei resterà impressa nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta, ispirando generazioni future a prendersi cura del nostro pianeta e delle sue creature. Che la lezione del loro straordinario legame ci accompagni sempre, ricordandoci che l'amore e l'amicizia possono superare ogni ostacolo e rendere il mondo un posto migliore per tutti. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.